carissimi ragazzi e ragazze tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio bentornati su Spazio Giovane Ave Maria a tutti e come saluto di oggi una santa festa di tutti quanti i santi che ci prepariamo e ci apprestiamo a vivere oggi apriamo una piccola parentesi nel nostro ciclo di catechesi nel senso che faremo una diversa catechesi sulla divina volontà perché le cose che diremo questa sera ci spera che siano tutte quante perfettamente inerenti alla divina volontà specialmente per questi giorni perché vorrei parlare un pochettino con voi dopo un brevissimo cenno che ne ho già parlato fin troppo negli anni passati e anche perché i diavoli hanno abbastanza stufato e non bisogna dargli neanche troppa importanza se stai a troppo a parlare di loro quindi vorrei parlare un po' della nostra grande festa dei santi e soprattutto le suore mi dicevano di parlare un pochino del mese di novembre perché questo è un mese molto importante perché è un mese in cui la Chiesa ci invita a respirare un po' di cielo a considerare la bellezza e la pluriformità della Chiesa noi lo vedremo la Chiesa è un'unica realtà questo ci dovrà anche superare qualche piccolo momento è un'unica realtà triforme potremmo dire perché c'è la Chiesa pellegrinante o militante che siamo noi c'è la Chiesa purgante a cui è dedicato la larga parte del mese di novembre e che sono nostri amici ma sono anche bisognosi del nostro aiuto e poi c'è la Chiesa trionfante che contempliamo particolarmente in questo benedetto giorno di cui stiamo nella vigilia che deve essere tutta la nostra gioia deve essere la nostra aspirazione siamo chiamati a vivere in eterno in compagnia dei Santi al cospetto dell'Altissimo e sappiamo per rimanere in tema con le nostre catechesi che in Paradiso ci va soltanto chi ha fatto la Divina Volontà era fatta bene e tutta quindi questo è un pochino l'arco di attenzione di questa nostra conversazione odierna cosa dire di quelle dei tentativi voi sapete che i padri della Chiesa chiamavano il demono la scimmia di Dio è un grandissimo complimento che gli si fa guardate più tempo passa più a quell'essere veramente insulso schifoso maledetto insignificante mi convinco che meno importanza gli si dà e meglio è nel senso per questo che non voglio parlare molto molto di lui perché è stato già ampiamente parlato ci deve essere una formazione perché oggi si fa un grandissimo favore al diavolo a non parlare di lui a fare finta che non esiste e questo chiaramente è fare un regalo però una volta che uno ha fatto informazione adeguata basta cioè se uno va a cercare nel mio repertorio i miei amministratori di Facebook sono 10-15 giorni che stanno tutti i giorni postando roba su Halloween su Halloween su Halloween eccetera eccetera qualche anno fa insomma una decina di anni fa quando ero a Borgo San Michele ci finì sulla prima pagina di un giornale locale insomma con il titolo Don Leonardo va da retro Halloween poi in televisione a monitor su una rete locale insomma quindi ne abbiamo già fatte parecchio e l'unica cosa ecco bisogna c'è soltanto una cosa che bisogna fare con il diavolo d'accordo ricordare quello che dicono i maestri di spirito non ultimo Sant'Ignazio di Roiola il diavolo è un cane in catene d'accordo un cane incatenato è incatenato un cane però un cane rabbioso allora che succede che se io mi avvicino d'accordo quello mi sbrana se io sto alla larga quello non mi tocca con questo sarebbe già finita la considerazione circa le cose attinenti la profanazione di questa nostra bella festa attinenti a questa sera d'accordo cioè bisogna capire una cosa fondamentale io ci ho fatto anche tante altre catechesi che poi è un discorso più generalizzato spero di riuscire a farlo in dieci minuti perché è molto formativo allora che tu lo sappia o non lo sappia d'accordo che se varchi una soglia entri nel raggio di azione del cane quello ti sbrana non importa capito anzi questa sera che un ragazzino in buona fede vada a fare il cretinetti in giro dicendo dolcette scherzette queste cose qui pensando e anche magari i genitori pensando ma sta facendo una pagliacciata si diverte un po' è un gioco da bambini d'accordo tu puoi anche pensarla così ma così non è e nelle catechesi fatte negli anni passati che non li faccio ho spiegato perché che cos'è il 31 ottobre il capodanno satanico ci sono dei libri che prima di leggere bisogna fare lezione della croce che raccontano tutto quello che fanno in questa notte d'accordo che è qualche cosa che veramente se si potesse prendere il diavolo e tirargli il collo e ammazzarlo ecco se c'è proprio una cosa che ti viene da fare c'è un essere così schifoso merita solo che la morte d'accordo così spreggevole schifoso proprio d'accordo allora vai a fare quel giochetto entri nella sua sfera d'azione e poi ti ritrovi in mezzo ai guai allora tenete presente il diavolo fa la stessa identica cosa per quanto riguarda la vita ordinaria cioè i peccati sono anni che sto facendo catechesi cioè noi sappiamo dal catechismo della chiesa che per fare un peccato mortale d'accordo ci vuole non solo una materia grave ma anche la piena avvertenza e il deliberato consenso quindi se tu pecchi per ignoranza cioè fai una cosa oggettivamente grave ma non lo sai non sei davanti a Dio imputabile di peccato mortale d'accordo perché non hai la piena avvertenza mi segui? allora vi siete mai chiesto ma se io non ho la piena avvertenza no? se dietro ogni peccato almeno in maniera remota c'è una tentazione del diavolo ma scusa ma chi me lo fa cioè che cosa mi tenta a fare a fare una cosa che magari non mi vale come peccato mortale perché non ne sono consapevole se questa non ci avesse delle conseguenze negative capito? basta leggere in questo senso la verità di splendor di San Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II diceva queste parole quando un atto è intrinsecamente cattivo il compimento oggettivo di quell'atto a prescindere dalla tua coscienza causa del male fa male cioè il peccato io l'ho detto in centomila salse differenti è una fabbrica del male capito? quindi un peccato da un punto di vista oggettivo è un male d'accordo? fa male capite? a te e intorno a te non fa niente che poi tu non sia imputabile davanti a Dio di peccato mortale non fa niente ma quella cosa comunque ha dato perdonatemi ha dato gloria al demonio ha tolto la gloria a Dio soggettiva ha causato del male a te intorno a te capito? non fa niente che tu non abbia la piena avvertenza ecco perché nella predicazione Don Leonardo Don Francesco Don Nicola tutti i ministri di Dio devono dire sta attento fratello mio questa cosa è peccato ma non perché a me mi va di affliggerti resistenza o mi va di farti venire magone di farti senti male e di farti andare storto la domenica o qualche altra cosa perché se io ti avverto eviterai di andare a complicare la vita a te perché se pecchi il male lo fai anzitutto a te il primo male che il peccatore fa è a se stesso capite? queste uno ci può credere o non ci può credere può pensare che sono stupidaggini può pensare che uno ancora crede a ste cose può pensare che il peccato non esiste può pensare tutto quello che gli pare noi però sappiamo e io questo lo so e ci credo che la rivelazione ha una dimensione oggettiva questo oggi bisogna dirlo con forza cioè se una cosa è male è male sempre dovunque e comunque sia che ci credi sia che non ci credi allora non solo vedete che il diavolo dicono tutti i maestri è contentissimo quando tutti quanti lo ignorano ma non lo ignorano nel senso santo capito perché i santi al demonio lo ignoravano nel senso ma non te calcolo proprio non ci veni proprio a tentarmi a me perché io non stavo dalla legge di Dio non ci vado perdi tempo d'accordo i santi hanno fatto così tant'è vero che non potendo tentarli li gonfiava le botte d'accordo come faceva con padre Pio come faceva con santa Veronica Giuliani eccetera eccetera cioè con loro perdeva tempo capito cioè nel senso non mette filo proprio perché è inutile che ci viene da me quindi questo è il santo disprezzo e la santa indifferenza del demonio tutti dovremmo avere questo ma non però la stupida indifferenza da parte del peccatore che fa finta che il demonio non esiste passa di guaio in guaio fa peccati su peccati e roba su roba pensando che tanto va a finire tutto quanto come dicono a Roma a taralluce e vino non è così di questa stolta indifferenza il demonio gongola capite perché così fa fare una montagna di male cioè noi ci ritroviamo non posso essere volgare scusatemi in un mare di letame ioognerebbe dirlo senza che manco te ne hai accorto e tu c'hai la testa ficcata dentro sto mare di letame e te ritrovi la via che stai capito che stai in un mare dei guai e dici ma che è successo e che è successo hai accumulato peccati su peccati peccati su peccati non fa niente ma io tutti i giorni faccio confessioni e spesso faccio confessioni impegnative figlioli miei cari non so quante confessioni generali avrò ascoltato in vita mia per grazie di tantissime vi posso dire che la stragrande maggioranza dei nostri poveri fratelli e sorelle che cadono anche in peccati molto gravi ma non gli passa ma manco per l'anticamera della pre-anticamera del cervello che andare a invischiarsi a impantanarsi in certe cose ti renderà la vita in inferno d'accordo però ci si sono trovati come dire buggerati stavo per dire un'altra cosa ingannati intrappolati capite questo è il demonio capito quindi lui diventa una belva quando qualcuno gli guasta la festa comincia a dire sta attento figlio mio che questa cosa che ti sembra che non sia niente niente non è se la fai ti trovi nei guai ma se a me che me ne importa la gente che si stranina negli anni passati se un ragazzino va a festeggiare non va a festeggiare Halloween ma sapete a me che me ne importa a me che me ne importa capito io sto qua a casa mia se un ragazzino mi agira a fare trick or treat ma a me che me ne importa capito e neanche sono sono contento che per affrontare come è successo in passato certe situazioni certe tematiche montagne di insulti di cose non vi dico i commenti su youtube che poi gli amministratori stanno tutto il giorno a regolarli e a e a cassarli capite ti vengono soltanto che problemi ma lo faccio per il bene non mi importa niente di quello che poi si pensi ora questo non è un problema limitato ad Halloween ecco perché ho venuto parlarne e adesso poi ci fermiamo perché è già troppo tempo che ne abbiamo troppo tempo è un problema generalizzato cioè l'azione del demonio è subdola cioè tende sempre a di ma che ci fa non è niente non ti preoccupare ecco perché fare questo vuol dire far trovare le persone in un mare di guai senza che queste possano neanche rendersi conto perché senza che soprattutto che possano evitarle d'accordo perché se io ho capito che una cosa è peccato d'accordo e quella cosa fa male ma io non la faccio io non dovete credere io ho conosciuto un sacco di gente che ha avuto una vita complicata ma che ha completamente tagliato perché quando ha capito che la vita gli si è complicata a causa di tutta una serie di cose ma io che sono scemo ma io la smetto non le faccio più queste cose qua non è che dici dai mi raccomando pentiti perché ma non c'è bisogno che nessuno te lo dice te pentiti da solo te pentiti perché non sei mica matto che ti vai a mettere la vita in un mare di guai capite ecco quindi dietro questa robaccia qui il demonio cerca sempre di come dire di ammaliarti le cose capite come quando ammalia sotto le sue come dire le sue magie d'accordo cose che ci fanno del male così vale per i spettacoli televisivi film tutte queste cose qui cioè capite te le presenta in un certo modo perché se ti si presentasse come dicono i vestiti di spirito brutto com'è se c'ha la corna se c'ha la coda adesso non se ne frega niente se c'ha le corna se c'ha la coda comunque il demonio è mostruoso in se stesso se tu lo vedessi così come ma scapperesti lontano meglio capite così come la gente che va all'inferno disse la madonna in quelle rivelazioni di fatima la gente che va all'inferno quasi tutti era gente che pensava che l'inverno fosse una fola ancora ste frescacce stiamo ad aretta ma stiamo nel 2017 ancora stiamo a pensare ai gironi tanteschi queste cose qui capite perché come diceva il buon cardinal Siri per andare in paradiso che oggi se ne dicono oggi hanno stravolto tutto d'accordo per andare in paradiso bisogna crederci e bisogna lavorare per andarci d'accordo non ci vanno tutti in paradiso ci vanno quelli che accolgono la salvezza di Gesù e quelli che compiono le opere buone attraverso la grazia di Gesù necessaria per andare in paradiso perché paradiso non si entra senza meriti d'accordo audite audite non ci si va invece per andare all'inferno non serve niente basta che fai quello che ti pare ecco capito non serve né che ci credi né che ti impegni perché l'inferno ci si va in automatico capite per questo che la salvezza delle anime è il compito della nostra fede almeno così è sempre stato oggi adesso pare sentendo certi 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 sproloqui in giro che qualunque cosa hai fatto nella vita comunque si è nato fanno tutti in paradiso d'accordo e all'inferno non ci va nessuno questa è catechesi satanica per quanto involontaria inconscia per quanto magari qualcuno che ciancia in questo modo sicuramente penserà di fare il bene non si rende conto di quello che dice ma questo è falso questo qui non è stato mai detto né mai creduto noi abbiamo sempre un parametro di riferimento infallibile perché la chiesa ha 2000 anni di vita noi non siamo tradizionalisti io non lo sono ma noi abbiamo siamo abbiamo 2000 anni di vita cioè che cosa significa io oggi mentre vi sto parlando ho 46 anni non ce ne ho 4 d'accordo è chiaro che parlare a 46 anni cioè quello che dico io oggi ha dietro di me il bagaglio di 46 anni di vita giusto bagliato che sia d'accordo quando parlavo a 4 anni avevo il bagaglio di vita di 4 anni allora il bagaglio di vita di 2000 anni che cosa significa significa quando uno sente una cosa strana deve andarsi a formare io ho sempre fatto così quando sentivo le cose strane fin da quando stavo in seminario che è una cosa che mi sentia un po' così aprivo i libri dei santi aprivo i documenti della chiesa aprivo il densinger e a non me ne ho informati dico che è sta cosa ma è davvero così perché qua sicuro qualche volta l'ho sbagliato io d'accordo nel senso che qualche volta una cosa che mi sembrava strana e invece era perfettamente in linea ero io che ero strano e che non ero ben informato altre volte no però altre volte si era alzato qualcuno la mattina che si pensa di saperne più di 2000 anni di storia e se ne escono delle cose strane d'accordo e qualunque sia la posizione di questa persona sia adesso un laico una suora un professore universitario un prete un vecchio chi te pare anche un vescovo anche un cardinale chiunque d'accordo non può non può su cose chiaramente dove c'è già una pronuncia vincolante della chiesa perché molte materie sono di libera discussione non può uscirse ne a picche d'accordo o meglio escitene pure a picche ma io non ti vengo dietro d'accordo perché io preferisco respirare nell'ambito di 2000 anni di vita della chiesa e con questo basti quindi cosa si fa questa sera? si pensa ad altro noi questa sera abbiamo altro a cui pensare capite? ci abbiamo altro a cui pensare noi questa sera ci abbiamo da pensare ai nostri cari santi ci abbiamo da fare le nostre veglie di preghiera che finalmente io non voglio adesso fare io ai tempi fui un pioniere insomma con le veglie di Holy Queen 10-12 anni fa preghiamo d'accordo guardiamo i santi stiamo con Gesù e con Maria stiamo in ottima compagnia d'accordo e offriamo tante preghiere d'accordo e anche il sacrificio per chi se la sente di fare un po' più tardi la notte per cui i poveri disgraziati che questa sera molti di essi ignari stanno cadendo nelle spire di chi li odia sperando che anche il nostro piccolo sacrificio la nostra piccola preghiera gli ottenga qualche luce qualche grazia perché questo sia l'ultimo anno che fanno queste cose qui e per il resto stiamo tranquillissimi capite tranquilli sereni ci abbiamo altro a cui pensare anche le domandine da se te bussa un bambino e ti dice toccetto scherzetto gli fai una bella carezza gli dici figlio mio eh tu magari non ti rendi conto di queste cose qua lascia perde io non te la do ti do un bacetto ti do un bacetto perché te voglio bene d'accordo ma non entro in questo gioco non perché non te voglio bene ma per il bene tuo e basta gli estendi la mano e lo saluti d'accordo non sono i bambini quelli che purtroppo stanno sono purtroppo i genitori di questi bambini che magari non hanno ben curato la formazione cristiana o magari non sono stati aiutati a volte neanche colpa loro che permettano ai bambini di fare queste cose magari anche loro perché superficiali ingannati i media le cose che se pensano che sia una carnevalata magabra insomma e niente di più ecco è un modo diverso per divertirsi bene detto questo troppo sono ben oltre i tempi che mi ero prefisso passiamo un attimo a considerare anzitutto la chiesa trionfante cioè il mese di novembre dicevo con un'introduzione noi respiriamo a polmoni grossi d'accordo cioè vedete molte persone ed è bene ed è bene la chiesa è qualche cosa di grande figlioli miei cari capite perché dico questo c'è molta gente che tuttora adesso ogni tanto sente situazioni vede fatti si agita si che entra in crisi comincia a pensare che la chiesa è finita che è qua che è a destra a sinistra che dove andiamo a finire allora figlioli miei cari dico accipicchio allora ci sono sempre due cose che dobbiamo pensare due la chiesa diceva il pastore di Erma ma sapete quanta è vecchia la chiesa non è vecchia a duemila anni la chiesa il pastore di Erma nella sua visione vede una vecchia 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 proprio di anziana è chiesa a un certo punto a questo personaggio della visione ma chi è sta vecchia che ho visto io e il personaggio gli risponde questa vecchia lo sai chi è è la chiesa la chiesa ma la chiesa esiste se no da 70 70-80 anni com'è che è così vecchia decrepita 70-80 anni la chiesa è stato il primo pensiero di Dio cioè la Santissima Trinità nel momento stesso in cui Abbe Eterno ha pensato l'incarnazione del figlio cioè che il figlio ha assumesso una natura creata come la nostra contestualmente in quella natura umana creata della stessa nostra sostanza perché Gesù è della stessa sostanza del padre in quanto Dio ma della nostra stessa sostanza in quanto uomo in quella natura umana creata di Gesù siamo uniti sono uniti tutte le membra della chiesa di ogni luogo e di ogni tempo cos'è la chiesa secondo San Paolo il corpo mistico di Cristo quindi è una cosa grossa cioè Dio ha pensato abbellito ricolmato di grazie e culla e protegge la sua chiesa ma quando ancora stava nel suo seno intratrinitario prima ancora che fossero creati gli angeli capito guardate che non me lo sto inventando io se prendete la lume in genzio quando parla della chiesa mistero ho fatto la tesi dottorale di queste cose qui quindi le so trovate scritto questo quindi aria aria cioè oggi stiamo nel 2017 stiamo in un momento storico contingente ma stiamo se siamo figli della chiesa stiamo dentro una famiglia grossa bella capite ecco la chiesa comincia il mese di novembre facendo guarda quanti santi che ci stanno nel cielo santi di ogni tipo di tutti i tipi di tutte le età adesso gli ultimi che sono stati canonizzati a maggio sono i più giovani Francesco e Giacinta di Fatima chi offre di più ecco quando canonizzeranno speriamo che canonizzeranno Nennolina Giacinta e Francesco passeranno al secondo posto perché Nennolina non c'era manco sei anni d'accordo e io spero che la canonizzino il più presto possibile perché quella bambina è un tesoro allora tendiamo la santità non ci stiamo preoccupando lascia le perde cioè quando uno vede qualcosa di storto quando sente qualcosa che non va anche se dilagasse una tecnica del demonio è di sbatterti sempre in faccia il male il male il male il male e tu pensi mamma che brutto oddio che fine stiamo facendo adesso che succederà diventiamo tutti eretici cioè e ti angosci e ti affliggi e che possiamo fare e qua nessuno fa niente i vescovi dormono i cardinali oh pensa diventa santo lascia perdere tutte queste cose qua lascia le perde perché le lasci non è che uno le lascia perdere per trascuratezza ma perché un'altra domanda chi se ne prende cura della chiesa chi se ne prende cura il papa si prende cura della chiesa secondo noi te ne prendi cura tu che magari sei un povero laico battezzato me ne prendo cura io che sei un povero prete se ne prende cura un cardinale di santa romana chiesa se ne prende cura non lo so il fondatore di un ordine religioso chi se ne prende cura chi è che difende la chiesa chi è che cura la chiesa chi è che protegge la chiesa chi è che vigila sulla vita della chiesa è il nostro signore Gesù Cristo stiamo facendo le catechesi sulla divina volontà figlioli miei cari quindi magari stiamo passando un periodo forse non troppo luminoso possiamo pure essere d'accordo facciamo finta di sì e allora qual è il problema nei periodi più bui della storia della chiesa sono sorti fior di santi anche in quel contesto i monasteri apparentemente insomma bruttarelli rilassati che non erano tutta sta grande sono sorti dei grandi santi cioè se tu ti vuoi far santo dentro la chiesa così come sta ridotta dentro la realtà locale sgangherata che tu vivi santo ci diventi guarda i santi non sta a guardare i peccatori non sta a guardare le cose che non funzionano guarda i santi e confida nel fatto e qui volevo leggere qualcosa che Dio al demonio lo fa correre d'accordo lo fa correre se trova figli che si appoggiano e seguono in lui sentite sentite tanto perché stiamo facendo un po' la divina volontà oggi non posso proprio ignorarlo completamente uno scritto sulla divina volontà prima di passare al mese di novembre d'accordo settembre 9 1923 sentite che bello il titolo è la divina volontà è inferno per il demonio lui la conosce solo per odiarla i santi chi sono i santi sono quelli che hanno fatto la divina volontà anche noi oggi dobbiamo fare la divina volontà fare la divina volontà figlioni miei cari per noi è anche vivere il tempo storico in cui stiamo vivendo è vivere la chiesa così come è fatta oggi con le sue difficoltà con i suoi affanni con i suoi momenti di crisi con la sua fase di ancora transizione di non perfetta forse nemmeno autocomprensione di se stesso con le difficoltà che incontra nel mondo con le famosi sfide di cui parlano le autorità della chiesa d'accordo viviamo qui adesso certi che stiamo immersi nella divina volontà d'accordo e che è divina volontà che io mi faccia santo in questa chiesa così come oggi allora leggo lo scritto mi sentivo un certo timore ancora chissà non fosse il mio adorabile Gesù che si benignava di parlarmi con il manifestarmi tante sublime verità specie sulla divina volontà ma il nemico per trarmi in inganno e mentre pare che con tante verità mi gette in alto poi mi precipiterà nell'abisso e dicevo tra me mio Gesù liberatemi dalle mani del nemico io non voglio sapere nulla quello che mi sta a cuore è salvarmi l'anima bella questa frase no? questa è il nostro Vangelo non voglio sapere nulla quello che mi sta a cuore è salvarmi l'anima onde il benedetto Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia perché temi? non sai tu che il meno che sappia di me il serpente infernale è della mia volontà? perché non volle farla e non facendola non la conobbe e non la amò molto meno penetrò nei segreti del mio imperscrutabile volere per conoscerne gli effetti il valore della mia volontà e se non li conosce come può parlarne? anzi la cosa che più abborre state attenti eh è che l'anima faccia la mia volontà lui non si cura state attenti se l'anima prega si confessa fa la comunione fa penitenza fa miracoli ma la cosa che più gli nuoce è che l'anima faccia la mia volontà oh questo bisogna attaccarselo sul letto eh ok non la preghiera non la confessione non la comunione nemmeno dei fai miracoli ma vi ricordate Gesù nel Vangelo cioè che dice signore abbiamo predicato nel tuo nome abbiamo scacciato il demore abbiamo fatto i miei miracoli cosa gli dirà? non vi conosco allontanatevi da me operatori di iniquità gente che non ha fatto la mia volontà proseguo perché come lui si ribellò la mia volontà così attenti bene fu creato in lui l'inferno la prima creazione dell'inferno non è il luogo pieno di fuoco e di tormenti malefici è dentro Lucifero fu creato in lui l'inferno attraverso la ribellione della divina volontà perché come si ribellò la mia volontà così fu creato in lui l'inferno il suo stato infelice la rabbia che lo rode sicché la mia volontà è inferno per lui e ogni qualvolta avete l'anima soggetta al mio volere conoscerne i pregi il valore la santità si sente raddoppiare l'inferno perché vede nell'anima creare il paradiso la felicità la pace da lui perduta provare per credere d'accordo? e quanto più il mio volere è conosciuto tanto più resta tormentato e furibondo il demonio in un'anima che vuole fermamente fare la divina volontà ricordatevi non ci può entrare non gli può fare nessun male rilevante purché voglia realmente vivere nella divina volontà non a chiacchiere quindi come mai può parlarti del mio volere se forma il suo inferno e se ti parlasse le sue parole formerebbero l'intero inferno perché lui conosce la mia volontà solo per odiarla non per amarla e ciò che si odia non porta mai la felicità e la pace e poi la sua parola è vuota di grazia e quindi non può conferire la grazia di far fare la mia volontà noi festeggiando i santi festeggiamo altro che l'antidemonio per antonomasia ecco perché la scimmia d'accordo si è andato a a ritagliare questo questo giorno per opporre i suoi pagliacci d'accordo i suoi cretini lo dico proprio con cognizione di causa quindi d'accordo lo dico volendo dirlo d'accordo perché chi va appresso al demonio è soltanto che proprio un folle totale ad opporli ai nostri dai nostri non ci arriva il demonio non ci può arrivare perché sono fermissimamente uniti ed amano la di pina volontà ora novembre è anche il mese subito dopo la celebrazione dei santi arriva la celebrazione in onore dei defunti che comincia il 2 di novembre la prima cosa da sapere è che in questo giorno voglio sapere che Santa Madre Chiesa è l'unico giorno al di fuori di Natale in cui è consentito a un sacerdote senza nessuna autorizzazione di celebrare tre sante messe è consentito soltanto il giorno di Natale e il giorno del 2 di novembre fuori di questo caso un prete non può celebrare tre messe questo è perché lo sappiate senza espressa autorizzazione del vescovo non lo può fare perché tre messe perché in questo giorno soprattutto una delle messe che il sacerdote celebra è se ne celebra una sola deve per forza applicarla per tutti i fedeli defunti non può prendere nessuna intenzione se ne celebra tre la seconda è per l'intenzione del papa la terza il sacerdote può scegliere per chi applicarla un'intenzione personale un'intenzione che gli danno o farne un'altra ancora meglio ancora sarebbe per i defunti perché fa questa cosa la chiesa perché oltre che la chiesa trionfante quelli che stanno nel paradiso che celebriamo il primo di novembre esiste la chiesa purgante vi dicevo che la chiesa è una realtà grande quindi non è soltanto una realtà grande perché è una realtà misterica e antica nata nel pensiero stesso eterno di dio ma è anche pluriforme non ci siamo soltanto noi che stiamo sulla terra oggi nel 2017 la chiesa ha duemila anni di storia e quelli che ci hanno proceduto in parte stanno in paradiso e in parte stanno in purgatorio perché quelli che stanno all'inferno non fanno parte della chiesa sono membri reglietti anche se sono stati battezzati anche se sono stati religiosi anche se sono stati preti dio non voglia vescovi e cardinali qualche santo ha visto gli zucchetti rossi all'inferno speriamo che abbia visto male d'accordo speriamo ecco ma in ogni caso chiunque sia ecco perché vedete noi la chiesa la conosciamo qui visibilmente d'accordo ma noi vedremo la chiesa come la chiesa è nata all'origine del pensiero stesso eterno di dio così sapete quando è che noi vedremo la chiesa in tutta la sua bellezza la sposa di cristo quando è che si vedrà chi lo sa il giorno del giudizio universale lì ci sarà ecco la sposa di cristo perché la chiesa è santa capito quindi i veri membri della chiesa i membri effettivi della chiesa sono i santi perché nessuno può sposarsi con cristo se non fa la divina volontà nessuno luisa piccarreta ha fatto il matrimonio mistico con Gesù su questa terra ma non si fanno matrimoni mistici se non fa la divina volontà tranquillo d'accordo non si fanno né mistici né reali cioè tu se non fai la divina volontà parte della chiesa non ne fai e non ne farai capito ecco quindi la chiesa si vedrà allora ecco ora ci sono molti nostri fratelli e sorelle che hanno fatto la divina volontà così e così ecco quindi l'hanno fatta o un po' sì un po' no o hanno fatto un sacco di peccati hanno fatto il tempo a pentirsi o hanno fatto i peccati veniali e non hanno fatto penitenza non hanno pregato abbastanza quindi stanno passando per il tempo della purificazione in purgatorio ho fatto un sacco di catechesi quello sul purgatorio quindi non vorrei anche qui fare una replica di cose che ho già ampiamente detto se uno vuole approfondire va sul mio canale youtube cerca purgatorio e c'è una valanga di cose anche altre prediche le farò sicuramente il 2 di novembre nel mese di novembre cioè io cerco sempre di cercare di adeguare un po' anche la predicazione a quella che è la mensa della chiesa se il mese di novembre è il mese dei defunti nel mese dei defunti bisogna parlare di questa realtà ecco ci sono alcune questioni però particolari che io vorrei un attimo con voi trattare perché come dire ne è constato l'urgenza e circola in giro tanta ignoranza allora la prima cosa io questa sera dopo la santa messa benedirò un pochino di ceri perché i ceri i ceri che si benedicono dopo questa messa servono per due cose primo si accendono i ceri in onore dei santi noi quando andiamo in chiesa avete visto ci stanno le immagini dei santi e accendiamo una candela è un gesto di devozione che cosa vuol dire accendere quella candela in onore dei santi vuol dire tante cose voi sapete che la luce la candela accesa l'abbiamo ricevuta nel battesimo e rappresenta la fede quindi accendere una candela al santo è un atto di fede anzitutto che si fa io riconosco in lui una lampada che è stata accesa come dice Gesù voi siete la luce del mondo e gli offro questa candela quasi chiedendogli come lui ha brillato come luce nella chiesa così aiuti anche me a brillare come luce che la lampada della mia fede anche per la sua intercessione non si spenga sono tantissime le simbologie significate allora questa notte i servi del nemico vanno a fare le zucche di Jack la lanterna le mettono fuori non mettiamo un bel cero acceso in onore dei santi d'accordo è un gesto molto molto devoto sapete che tenere anche una candela benedetta accesa è un sacramentale che si usa per tenere lontano le potenze del male ne ho parlato di queste cose dentro casa se io accendo un cero benedetto e dentro quella casa si affacciasse qualcuno state tranquilli che appena vede quel cero si acceca e se ne va d'accordo è un sacramentale ma non solo per questa notte i ceri benedetti e questa è sempre dottrina della chiesa non è invenzione mia d'accordo antichissima voi sapete che nei cimiteri da sempre si portavano i ceri davanti alle illumini davanti alle tombe adesso dato che siamo moderni pensando che questo sia un folklore ci hanno messo tutti quanti i lumini elettrici d'accordo dando a questa via tradizione un folklore però il problema è che i sacramentali per funzionare devono essere sacramentali perché c'è proprio la simbologia concreta della cera che arde e del fuoco che brilla che ha valore spirituale che non può essere sostituito dalla corrente elettrica anche perché la lampatia non la puoi benedire il valore anche di quel segno è la benedizione che gli conferisce il significato di sacramentali ora per quanto riguarda i defunti sia il cero benedetto che l'acqua benedetta sperza sulle tombe tanto è vero che nel rituale delle esegue anche se purtroppo oggi anche dalle mie parti è stata diciamo così di prassi abolita la consuetudine che il sacerdote accompagni la salma al cimitero ma nel rito diciamo così integrale delle esegue finita la celebrazione il sacerdote accompagna la salma al cimitero benedice il sepolcro e benedice il feretro con l'acqua benedetta perché anche questo sacramentale giova alle anime del purgatorio ora bisogna vedere se uno ci crede o se uno non ci crede quindi sia l'acqua benedetta che i ceri benedetti recano sollievo alle anime del purgatorio recare sollievo alle anime del purgatorio vuol dire una cosa molto semplice o alleviare l'intensità delle loro sofferenze perché nel purgatorio il purgatorio non è una sala d'aspetto il purgatorio è un luogo di sereni santi ma intensi tormenti quindi o allevia le pene del purgatorio o abbrevia i tempi di purgazione questo è il valore che ha un suffraggio qualunque suffraggio la messa celebrata le preghiere tutto quello che uno vuole d'accordo? allora a che cosa è legata l'efficacia di questo sacramentale però di questi due sacramentali sapete a che cosa è legata? al fatto che nel cimitero sussistono le spoglie mortali del defunto spoglie mortali del defunto che se avete assistito ad un funerale cristiano cattolico sono già oggetto dei medesimi segni durante la celebrazione queste non sono invenzioni che cosa sta acceso a fianco alla bara di un defunto durante un funerale ci avete mai fatto caso? sta acceso il cero pasquale che è il cero più benedetto che esista al mondo d'accordo? perché si benedice la notte di Pasqua d'accordo? e è espressione massima diciamo così della nostra fede in Cristo risorto perché lo rappresenta poi cosa fa il sacerdote dopo l'orazione dopo la comunione durante i riti del commaiamiato cosa sperge sulla salma del defunto? l'acqua benedetta e poi anche cosa fa? anche questo si potrebbe fare al cimitero lo incensa incenso benedetto perché quando il sacerdote infonde l'incenso traccia un segno di croce sul turibolo quindi quell'incenso viene benedetto tutti questi segni che cosa indicano? indicano che quel corpo che certamente non va trattato come un feticcio tipo all'Augo Foscoro che se ne fa una sorta di totem ma quelle sono le spoglie mortali di un uomo o di una donna la cui anima è stata creata da Dio è stata in grazia santificante è stata la sua abitazione terrena e quel corpo risorgerà nell'ultimo giorno per cui diciamo così come la vita umana si lascia che finisca quando Dio vuole non si fanno gesti di violenza per il corpo è meno grave perché non c'è una proibizione morale assoluta ma la Chiesa sempre insegnato lo deponi nella terra e lasci che proceda gradualmente alla mineralizzazione in modo tale che per un certo numero di anni sarà oggetto di preghiera in questo senso e di cura sacramentale da parte dei familiari e poi Dio provvederà le ossa riposeranno in attesa della risurrezione però anche il corpo di un di un di un di un di un cristiano è sacro capite è sacro ha una dignità sua intinsega allora oggi si va diffondendo una pratica che è sorta come pagana e tuttora oggi è utilizzata da molti laici e laicisti che muoiono non voglio fare nomi e cognomi ma alcuni sono abbastanza recenti che sono passati a miglior vita che è la cremazione ora il discorso su questa pratica è un discorso complesso perché voi sapete benissimo che su questa come su altre cose diciamo così la chiesa nel suo essere madre ha aperto rispetto alla disciplina tradizionale che era molto rigida uno spiraglietto ma è uno spiraglietto capite così come per le sequie di chi muore suicida e questo è lo stesso identico problema uguale perché l'ambito è lo stesso identico della comunione in mano identico cosa ha detto la chiesa sulla cremazione ha detto che qualora appaia evidente che la cremazione non è stata attuata come atto di sfregio nei confronti della verità di fede della risurrezione della carne si possono celebrare le sequie di chi ha scelto questa cosa ma così come se una persona muore suicida che di per se stesso sarebbe un peccato gravissimo però torniamo a quello che ci siamo detti all'inizio di questa trasmissione il suicida aveva la piena avvertenza e nel caso del suicida soprattutto il deliberato consenso nel compiere questo gesto o è stato un gesto disperato perché potrebbe chiaramente apparire dalle circostanze che è stato un gesto disperato è chiaro che se una persona immaginiamo facesse una strage mazza 40 persone dopodiché si mette la pistola in bocca e si spara in bocca il vescovo di quella dioce si dovrà fare un piccolo discernimento per sapere se a questo che ha fatto questa cosa li possiamo celebrare a fumare in chiesa per questo ha fatto 40 omicidi prima di fare una cosa del genere capite però un poveretto un disperato che si ritrova inguagliato in un mare di debiti con tutti quanti che lo minacciano di morte che a un certo punto non è e fa un gesto estremo in un attimo di disperazione va all'inferno questo qui non possiamo dirlo noi con certezza allora facciamo il funerale allora capite però cioè questi sono esercizi di attenzioni materne della chiesa che però costituiscono eccezioni rispetto alla regola e al tempo stesso non sono benedizione di quel gesto cioè se dico nel caso di un suicidio non è detto che non si debbano celebrare le esegue se non appare in maniera clamorosa evidente che è una cosa che non si può fare oppure nel caso della cremazione prima di rifiutare le esegue verifichiamo che non siano state fatte come dire in barba al dogma della reazione della carne non sta dicendo se le fai è la stessa cosa è un rito intercarbiano assolutamente capite assolutamente tant'è vero che è uscito sul tema della cremazione io mi ritrovai qui insomma a discutere con una persona vedrevo insomma che dico oh ma che è sta roba qua cioè io immediatamente da parroco mi sono responsabilizzato grazie a Dio è uscito un articolo anche qui sul periodico locale della chiesa diocesana curato dall'ex direttore dell'ufficio liturgico che spiegava bene l'istruzione che il cardinal miller con la firma di Papa Francesco ha diramato un paio d'anni fa su sta cremazione perché cominciavano a essere dedutto c'è la gente che si porta le ceneri dentro casa a me è capitato di capitare dentro una casa benedici le ceneri dei miei padre oppure gente che si fa mettere le ceneri dentro un copanetto e se le attacca al collo ma queste sono cose che non hanno niente a che fiare col cristianesimo queste sono pratiche puramente pagane d'accordo cioè il corpo di un defunto va rispettato i gesti che la liturgia gli tributa durante già la stessa celebrazione eseguiale ce lo fanno capire la possibilità di ricevere ulteriori suffragi lo richiede capite per cui far cremare una persona è oggettivamente oggettivamente privare quella povera persona di alcuni benefici oggettivi io domani andrò a cimitero io d'accordo qui c'è una bellissima tradizione che domani pomeriggio parte una via crucis si va al cimitero e il parroco benedice tutte le tombe debbonano la corona da loro è chiaro che chi sta dentro quelle tombe domani verrà benedetto da me quelli che hanno fatto bruciare i vivi non sarà benedetto da me e non è la stessa cosa che sia benedetto da me oppure no non perché sono io perché qualunque parroco ci fosse sarebbe la stessa cosa capite allora non siamo troppo perché dicevo la stessa cosa della comunione in mano perché la comunione in mano ci ho scrivono tantissime volte sorse nella chiesa come concessione del tutto rara occasionale mirata basta leggere le prime concessioni di Paolo VI per alcuni gruppi che si erano messi in testa hanno fatto forza sta cosa e poi è successo il marasma d'accordo cioè l'eccezione mirata è diventata la regola assoluta e guai a chi la mette in discussione la stessa cosa successe a suo tempo quando fu permesso al clero di portare il clergyman uguale la stessa antica cosa i preti si lamentavano perché con la veste talare uscirono negli anni 50 anni 60 le lambrette le motorette la storia questa qui e i preti cominciano a dire eh però fa un viaggio se ce ne vanno sta cosa che se ne va dentro i raggi della lambretta o dentro la bicicletta si può fare allora le prime cose ci va bene la veste talare si porta in parrocchia però in caso di viaggi te poi mette il clergyman ecco qua dal clergyman siamo passati all'andangiro vestiti in borghese allora è chiaro che la chiesa non ha mai approvato queste cose mai però purtroppo vedete che succede cioè fatta la legge troviamo l'eccezione e poi l'eccezione diventa la regola è che la situazione sfugge di mano questo fa anche comprendere ecco dopo ci sono quelli che si lamentano perché dopo quando visti i guai ci stanno poi i giramenti di vita e di disciplina ah la chiesa è rigida allora capite cioè la chiesa non dovrebbe essere rigida perché il buon senso dovrebbe essere la guida delle nostre azioni è chiaro che supponiamo viene un'epidemia d'accordo ci sono 2000 morti al giorno non so dove metterli che cosa ci facciamo con questi morti qua è chiaro che li devi bruciare li devi bruciare per forza li devi bruciare oppure se ci fosse un'altra situazione insomma grave capito cioè è che non devi fai il funerale a stipolarci perché li hai dovuti bruciare per ragioni contingenti ma certo che glielo fai capite o ripeto il suicida disperato però capite che sono casi circoscritti che non intendono affatto generalizzare un comportamento alternativo tantomeno mettendolo allo stesso livello capite tantomeno mettendolo allo stesso livello di quello che è il comportamento normale se leggete l'istruzione di 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 Müller ripeto firmata dal Papa lo sapete che il di Castello della Rottina della Fede è esercizio del Magistero ordinario del Sommo Pontefice dice ricordiamo che la pratica cristiana di trattare i defunti è l'inumazione i cimiteri ce li siamo inventati noi il termine cimitero significa dormitorio quindi luogo dove si riposa con l'anima che già andrà nell'altro mondo e il corpo che sta aspettando di ricongiungersi con l'anima in attesa della risurrezione della carne questo ce lo siamo inventati noi capito erano i pagani che bruciavano le persone andate a Pompei a Pompei Antica non Pompei Nuova ci sono gli scavi meglio custoditi del mondo e vedrete tutti quanti i cimiteri pagani come erano fatti erano tutti quanti con i loculi per le urne cinerarie perché i pagani venivano bruciati tutti quanti d'accordo perché il corpo e ragioni igieniche te brucio tanto non c'è niente dopo d'accordo c'è questa specie di pseudo limpo che chi lo sa se c'è non c'era questo senso cristiano del corpo oggi il corpo è non rispettato in vita con tutto quanto lo schifo che si fa con tutte le profanazioni dei corpi con le modi invericonde con gli atti impuri con la mercificazione del corpo e non è rispettato in morte col bruciamento capite è tutto quanto un frutti marci della nostra brutta epoca ripeto la chiesa consente capite più che consente sarebbe la causa di dire tollera d'accordo perché consente già una sorta di approvazione se no va bene in certe circostanze può essere ma nulla di più noi che siamo figli di Dio dobbiamo portare avanti i valori della fede capite agire da figli di Dio fare diversamente significa ripeto oggettivamente privare un defunto di alcuni benefici oggettivi che sono i suffraggi e guai a chi non ci crede ai suffraggi i suffraggi sono tutte quante le opere preghiere sacramenti e sacramentali che possono essere fatti per i fedeli defunti il più importante far celebrare le messe adesso dirò una parola per questo poi la preghiera l'offrire anche quando non faccio celebrare la messa offrire la messa che ascolto in suffraggio dell'anima di un mio caro solo se e quando sto in grazia di Dio neanche al funerale di mio padre se non mi sono confessato non sto in grazia di Dio offrire anche la comunione per un defunto poi le opere buone le lemosine e poi i sacramentali l'acqua benedetta sulle tombe e i ceri benedetti davanti alle tombe questi sono i principali suffraggi che possono essere fatti per i defunti in cui esercitarci particolarmente in questo tempo ricordo anche dato che stiamo parlando di questo argomento che la chiesa per i primi otto giorni del mese di novembre a partire da domani concede l'indulgenza plinaria applicabile ad un defunto al giorno e solo ad un defunto a chiunque fa pia visita a un cimitero il cimitero tra l'altro è un luogo sacro capite e che tornando ai satanisti di cui abbiamo parlato sapete che alcune schifezze i satanisti li fanno ai cimiteri profanando le tombe perché al diavolo non gli abbasta te dà c'è il tormento quando siamo vivi d'accordo alla pura dà il tormento alle ossa dei morti e le ossa dei morti per far capire quanto sono importanti purtroppo sono utilizzati nei riti satanici così come le ossa dei morti non lo sapevamo sono utilizzate per farci le reliquie dei santi se io ho una reliquia di un santo la reliquia di un santo è una cosa santa cioè dentro quell'osso di un santo c'è una grazia santificante reale non è mica uno scherzo non è uno scherzo e le ossa delle reliquie da che cosa sono fatte dai pezzi di ossa se tu gli avessi dato fuoco al santo la reliquia te la sognavi capite quindi per i primi otto giorni visita il cimitero che è il luogo sacro che contiene le salme delle anime sante si spera che stiano tutti in purgatore in paradiso e nessuno all'inferno e una preghiera anche solo mentale anche solo un eterno riposo detto a mente basta però capite anche qui il valore che la chiesa dà alla visita al cimitero devi andare lì al cimitero dove stanno i corpi non le ceneri d'accordo i corpi dei fedeli defunti d'accordo una parola su queste benedette messe poi concludono già parlate in altre volte allora sappiate che anche qui ci sono le norme di santa romana chiesa non sono idee mie e purtroppo a volte si trattano queste norme con estrema leggerezza le messe con 120 nomi sono un abuso d'accordo bisogna andare con tanta carità e dolcezza dai nostri parruci e spiegare che non si possono fare queste cose c'è un documento della chiesa del 1984 è della congregazione del clero che parla delle cosiddette messe collettive cercatelo online stampatelo e portatelo a leggere eventualmente i vostri sacerdoti che dice che una messa non può essere applicata per 200 intenzioni ma per una sola intenzione il documento aggiunge dice ma io purtroppo sto in una parrocchia sto da solo e ho 300 intenzioni al mese celebro 30 messe come faccio il documento dice che per due volte a settimana se le ragioni pastorali ci sono tu puoi soddisfare con una sola messa più intenzioni fermo restando che devi avvisare il fedele perché il fedele ha il diritto di vedersi soddisfatta la messa con una propria intenzione vi posso dire che io personalmente anch'io faccio questa cosa come la chiesa la chiede due volte a settimana è permesso di mettere più intenzioni ma io per uno scrupolo mio personale di coscienza applico le ricordo tutte quante ma la messa poi la applico per una delle intenzioni e le altre due le do a sacerdoti i miei amici che non hanno intenzioni e le faccio ricelebrare come messe singole il motivo di questo è un motivo molto semplice d'accordo adesso non c'è tempo che è anche il motivo per cui si deve discutere un po' su alcuni aspetti della concelebrazione non c'è tempo nel modo di farlo adesso il motivo è molto semplice noi sappiamo una cosa la messa non è altro che la rinnovazione o se preferite ripresentazione sacramentale del sacrificio del calvario cioè la forza della messa è tratta dalla croce di Cristo ora è evidente che il sacrificio del calvario il sacrificio di Gesù in quanto tale è un valore infinito d'accordo perché nella croce di Gesù sono salvi tutti gli uomini di tutti quanti i tempi la messa ripresenta questo mistero attenzione il cui valore originario è infinito ma la messa è celebrata da me che sono un essere umano finito è vero che agisco in persona a Cristi ma agisco in persona a Cristi nel senso che durante la consagrazione Gesù usa le mie membra come strumenti passivi per trasformare il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue basta però però la messa la celebro io non la celebro a Gesù celebrata da me la messa diventa un atto santissimo ma un atto finito un atto limitato per cui il sacrificio della croce d'accordo ha un valore infinito diciamo così la gloria che la messa dà Dio è infinita ma l'efficacia della messa è limitata perché è un atto di un uomo e quindi io non lo posso vivisezionare in 40 intenzioni capite una messa una intenzione 40 messe 40 intenzioni questo è il motivo non solo un problema di soldi d'accordo che se tu hai 40 intenzioni di messe prendi 40 offerte e sono troppe questo è un problema marginale ma il problema principale è la non frazionabilità della messa in quanto atto finito se tu la frazioni a chi è che ne va di scapito all'anima per cui ho offerta capite se io faccio sempre una messa per mio padre e a fianco a mio padre ci mettono altri 30 nomi è evidente che l'efficacia di quella messa sarà sicuramente diminuita noi non sappiamo come quanto io non ho il filo diretto con la santissima trinità non so dire quanto vale una messa singola e quanto vale una messa con 30 intenzioni non lo so d'accordo so per certo però che non è la stessa cosa per certo questo è sicuro e la chiesa questo lo tutela attraverso queste norme che devono essere applicate capite e che se non sono applicate i vescovi io vi assicuro che anni fa lo fece anche il vescovo qui a Latina d'accordo durante una riunione del clero molti anni fa disse ragazzi a me mi arrivano le voci ma qui da Roma stesso ci hanno detto di ricordare l'applicazione di questo documento che è tuttora valido spero che lo facciate d'accordo ecco questo perché i suffragi che noi facciamoci debbare i nostri cari defunti possano realmente andare ad effetto una parola soltanto sono sempre esistite le messe gregoriane le messe gregoriane non possono celebrarli parroci io non posso celebrarle ma ci sono tanti sacerdoti io per esempio qui ne ho anche molti miei collaboratori che sono a Roma per ragioni di studio o altre cose che possono fare queste messe gli si dà tra l'altro un grande aiuto perché con quei soldi ci campano ve lo dico proprio papale papale e una messa gregoriana per un caro defunto è il più grande regalo in assoluto che si possa fare se qualcuno dice cosa posso fare di buono a mio padre o mia madre guarda te lo dico subito trova il modo di fargli celebrare una messa gregoriana fai un piccolo sacrificio perché 30 messe richiedono un'offerta cospicua ma sappi che non c'è regalo più grande che tu possa fare al tuo caro defunto bene detto questo auguro una santa celebrazione dei santi tutti quelli che possono vegliare veglino con i santi pieni di gioia anche perché dobbiamo dimostrare alla nostra concorrenza che se quelli vanno a fare le 4 di notte per fare porcherie di vario genere noi siamo ben felici di fare anche le 5 della mattina per stare in compagnia di Gesù della Madonna e di tutti quanti i nostri cari santi del cielo la mia benedizione a tutti Ave Maria Grazie a tutti